Benvenuti in un nuovo video e ci troviamo di nuovo in casa Foodspring sapete che io con Foodspring non ci collaboro però giù nell'info box vi lascio un link questo link verrà lasciato anche a voi quando effettuerete il vostro primo ordine con una spesa di 40 euro, ovviamente acquistando dal link direttamente al carrello vi scalano 15 euro nel momento in cui vi acquistate con il link a me rilasciano 15 euro di sconto ma nel momento in cui anche vi acquistate del vostro primo ordine vi rilasciano il link da dare alle amici e parenti e così via oggi siamo qui per provare queste altre barrette se vi siete persi i video Foodspring malandrini vi consiglio di andarle a guardare allora io direi di iniziare con quella che mi ispira di più e quindi io inizio da Mango sono barrette che nel corso degli anni sono state molto molto sponsorizzate ho visto tante recensioni, ho visto tante recensioni positive ma anche tante recensioni negative quindi oggi la bocca della verità le proverà e vi farà sapere Foodspring Protein Bar Mango Milkshake barretta proteica da 60 grammi 182 calorie, grassi 3,9, di cui carboidrato 15 grammi zucchero 4,3, fibre 15 grammi proteine 20 grammi e sale 0,18 l'odore è fenomenale, mi piace assaggiamo dai non è male non sono gommose visivamente possono sembrare gommose invece no, si scioglie letteralmente in bocca dai, sono sincera mi aspettavo di peggio no, è buona questa cosa di Mango Milkshake mi ricorda tantissimo tipo latte proprio quei frullati belli di frutta è buonissima poi sapete io sono di parte nel senso ai gusti cioccolatosi io preferisco questi qua ok, che provo? biscotto sì voglio provare biscotto ovviamente vado a lui non sarò qui a ripeterveli ma andiamo a ripeterveli nel dettaglio ci sono i pezzi di biscotto l'odore è molto buono assaggiamo sinceramente buona non è male infatti le mango si sentono allora forse rispetto a Mango io preferisco Mango perché è un'esplosione di sapore molto più particolare però vi posso dire che questa è molto buona il gusto rispecchia il gusto non è tanto stocchevole è dolce ma al punto giusto sinceramente mi piace già da quando sto già dall'altra potevo già dire mi frullava questo pensiero in testa che secondo me queste sono molto più buone rispetto alle altre barrette che abbiamo provato quelle là un po' più cicciottose non mi ricordo la linea però secondo me sono molto più buone allora il gusto crema di nocciola che è alzenuto cream questo che vedete bianco è proprio un pezzettone di nocciola non ve lo capiamo se il gusto dell'oncio è dato da quel pezzo grande di nocciola oppure l'impasto si sente anche di nocciola bene è pazzesco wow ovviamente adesso la posso paragonare a biscotto tra biscotto e nocciola 80.000 volte meglio nocciola wow è buonissima ci sono proprio i pezzettoni prendete proprio quella nocciola bella no vabbè adoro buonissima comunque confermo a mio avviso questa linea è molto molto più buona rispetto all'altra meno 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 particolari ma sono molto più buone ok andiamo al gusto frago da poi sarebbe stra bell'ingioghurto che ricordi di infanzia proprio di yogurt a fragola fate che le ho gusto forse non piaceranno a tutti questo è molto succhibile mmm le pezzettoni di fragola comunque non lo sapevo questo fatto che c'erano i pezzi all'interno ma che buono no aspetta ma questo è una noce pure wow sono troppo forte noci 3% wow no vabbè infatti ho preso proprio un bel pezzo di noce no sono soddisfatta perché avete visto non tutti i prodotti food spring mi sono piaciuti veramente su tanti tanti prodotti che ho provato pochi mi sono piaciuti e pochi riacquisterei proprio ad occhi chiusi però queste barrette sono davvero buone 3 anni per mettere a fuoco però assaggiamo chocolate muffin tra tutti è quello che ha la consistenza più dura no sento qui un po' di cioccolato fondente infatti il cacao no non mi piace è arrivato il momento della classifica per quanto mango e fragole siano stati wow per me io però mi sento di mettere al primo posto nocciola cioè quei pezzi dentro guardate è fenomenale secondo posto ce lo metto per la sua particolarità perché dentro ci stanno proprio i pezzi di noce buono fragola ma al secondo posto si piazza pure mango però mettiamolo al terzo posto mango quarto posto biscotto e ultimo posto muffin fatemi sapere voi cosa ne pensate se le avete provate tutte fatemi un po' sapere qual è la vostra recensione qual è la vostra classifica e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao